Un uomo di nazionalità rumena è stato arrestato ieri sera al termine di un'operazione congiunta tra polizia locale di Ponte Cagnano-Faiano e dei carabinieri della compagnia di Battipaglia finalizzata a debellare il fenomeno dei furti sul territorio. L'uomo, con altri due complici, stava provando ad introdursi all'interno di un appartamento in località Sant'Antonio, arrampicandosi lungo un tubo posto su una delle facciate, quando è stato scoperto e fermato dai caschi bianchi guidati dal capitano Francesco Lancetta. Gli altri due sono riusciti a fuggire. L'arrestato, con precedenti penali, è stato trasferito presso la Camera di Sicurezza della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano-Faiano. Stando ai primi rilievi effettuati, sembrerebbe che i tre siano responsabili anche di altri furti nella zona di Faiano.